Si fa presto nel calcio a parlare di rivelazioni, ma di sicuro nel campionato di eccellenza toscana in rapporto ai problemi di inizio stagione, quando la squadra è stata rinnovata radicalmente, ricostruita nel giro di due settimane. Ma il Figline, o per usare la dicitura federale, la giallo-blu Figline, è una gran bella sorpresa del torneo. Va a punti dal 18 ottobre, una settimana dopo l'ultima sconfitta grassina di misura e da allora ha messo insieme ben 10 risultati utili di fila salendo a quota 20 punti, due soli in meno del quinto posto e sopra di tre dalla limite superiore dei play-out. E quando chiediamo al tecnico Alessio Coccolini se insieme al direttore sportivo Fabio Malvisi si sente l'artefice principale della rimonta che vale l'Oscar della continuità, la risposta è eloquente. La forza e non è retorica, spiega il mister, è il gruppo formato da amici che vanno in campo davvero per divertirsi. In questi mesi poi abbiamo imparato il significato della parola consapevolezza. Possiamo giocarcela con chiunque, anche se dobbiamo rimanere umili in una categoria piena di sorprese fino all'ultimo minuto. Per l'anno nuovo intanto, fin dalla partita interna di domenica con la Sinalunghese, Coccolini conferma che non cambieranno gli obiettivi. Cercheremo di fare al più presto i punti che ci garantiscono la salvezza. Per noi, in un anno di vera rifondazione, sarebbe come vincere uno scudetto. Non dimentichiamo, vale la pena di aggiungere, che i figlinesi hanno perso cammin facendo giocatori del calibro di Pica e Angelotti e solo se capiterà un'occasione giusta per ampliare un gruppo numericamente ridotto, può essere plausibile un'operazione in entrata.